in riga controllo qui delta primo punto di atterraggio non praticabile siamo alla barricata est ripeto barricata est ricevuto delta ci sono dei sopravvissuti dove è caduto 2 e 5 allora per prima cosa andiamo là qual è la situazione a terra avete due obiettivi delta potete passare per la strada o attraversare i palazzi davanti a voi la strada mi sa che è più pericolosa sinistra un edificio se ne saranno pochi immagino che cosa bella mi raccomando non fare come il tuo collega che ti licenzio subito dov'è andato ma lui è già andato avanti è più lissimo dove dove è non 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 è morto capite che c'è bella la pastilla che succedono i nemici mi invita a bella perchè c'è l'opinventa è su un bersaglio che non ricordo male qui che era in giro e non è vero e non è vero e non è vero e non è vero è vero è vero è vero il prossimo è vero è vero è vero altro è vero è vero è vero è vero non ho più le armi da lontano con i miei faccio vedere un caffè è vero è vero è vero è vero no non è vero non è vero Quindi? Ah Ritirato Si è ritirata Dom per l'amor di dio Si che tanto non serve a niente Per adesso Si darsi si tantissimo No, no, non abbiamo battuto Unicione, check point Unicione Non lo vedo E' un cabinetto all'aperto Se qualcuno vuole usufruire di questa bellezza Sto' arrabbiando Andale Che fa' la granata, non la prendi? Tutto questo non vedo, Baird Certo Dannazione Guardatemi sottoterra Piena Ah, c'è Don qui Grazie per l'aiuto Certo, è per questo che siamo qui Chi è che ci sta aiutando? Nessuno Ah, ok Ah, c'è un po' Ah, c'è un po' 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 Ho fatto Talca di propano Devo farcela Ok, noiii Perfetto Queste arrivano, prendono armi intanto Il conservatorio Controllo qui Delta 1, Delta 2 si sta occupando dei feriti e del recupero Il conservatorio è ok? Per quel che ne so sì, Delta 1 Allora andiamo là